Fondo sanitario nel 2024 arriva al massimo storico di sempre, 134 miliardi. Se volessimo fare un raffronto, negli anni del Covid oscillava tra i 120 e i 122 miliardi, nel 2019, prima del Covid, stava a 115 miliardi. Non è vero, perché anche in rapporto al PIL, il Fondo sanitario del 2024, 134 miliardi di euro, con previsione a 136 nel 2026, quest'anno incide rispetto al PIL del 6,88%. E anche questo è verificabile, è il dato più alto di sempre, il rapporto al PIL, salvo nell'anno del Covid, che però c'era un crollo del PIL che noi conosciamo per le questioni che riguardano le chiusure. Dopodiché abbiamo rifinanziato quello che riguarda i piani regionali per l'abbattimento delle liste d'attesa con ulteriori 500 milioni, abbiamo liberato con la tanto vituperata revisione del PNRR altri 750 milioni di euro per la sanità, stiamo rivedendo il contratto degli operatori sanitari, abbiamo aumentato gli straordinari per medici e infermieri che lavorano nel nostro sistema sanitario pubblico. È risolto il problema? No, direttore, perché la sanità è una questione molto complessa, tra l'altro noi mettiamo i soldi ma non siamo quelli che li spendono.